Una vastese vogliosa di tornare a macinare punti anche in casa, ospita all'Aragona il Castelfidardo. Mister Colavitto ritrova tra i pali il portiere Valentino Russo, uscito dopo un brutto scontro domenica scorsa a San Mauro, ma deve fare a meno di Campanella, fermato dal giudice sportivo. Così in difesa tocca a Bartoli affiancare Capitan Allocca. L'altra novità riguarda l'attacco con Sasa Galizia che si gioca una chance importante, partendo per la seconda volta in stagione dal primo minuto, scelta che porta a far accomodare in panchina l'ex torrecuso Roberto Felici. Per quanto riguarda gli ospiti, Mister De Angelis deve fare a meno dell'under Siletti perché squalificato è del febbricidante Gaeta. Passiamo alla partita con le immagini salienti del match. Le due squadre partono al piccolo trotto con Lavastese che attacca il Castelfidardo che si difende. La prima azione degna di nota è al ventunesimo con Nicola Fiore che ci prova da calcio di punizione. Normale amministrazione per De Gennaro. Al ventitresimo è Galizia a rendersi pericoloso dopo una sponda di Prisco. Lavastese al venticinquesimo aumenta la pressione, trova il gol. Punizione di Fiore, la palla finisce a Manzo che di testa batte l'estremo difensore ospite. 1-0 per Lavastese. Per il numero 8 arriva il secondo gol stagionale. Lavastese continua a spingere al trentatreesimo. Manisi se ne va in aria ma viene steso da Lodi. Per l'arbitro non ci sono dubbi e calcio di rigore. Sul dischetto va Prisco che batte De Gennaro. 2-0 della Lavastese e partita in discesa per i padroni di casa. Si va a riposo con questo risultato, con un Lavastese meritatamente avanti di due reti e un Castelfidardo mai pericoloso dalle parti di Russo. Nella ripresa Lavastese gestisce il risultato e gli ospiti provano a fare qualcosa in più del primo tempo, non impensierendo i padroni di casa. Così i biancorossi al sedicesimo sfiorano il terzo gol con Di Pietro. Il numero 4 non riesce a superare però un attento De Gennaro. Alla diciannovesimo altra palla gol per Lavastese, cross di Prisco e dopo un'uscita non impeccabile del portiere ospite la palla finisce a Fiore che di testa la manda incredibilmente a lato. Finalmente il Castelfidardo si fa vedere dalle parti di Russo al ventunesimo. La mira del neoentrato Alessandrelli non è però delle migliori e la palla finisce a lato. Ospiti ancora pericolosi al trentesimo con Soragna. Il numero 9 ci prova dal limite ma strozza troppo la conclusione. Al quarantacinquesimo ancora ospiti che cercano il gol della bandiera con Lodi su calcio di punizione. Russo si fa trovare ben piazzato e blocca in sicurezza. Nel finale di gara si infortunia Prisco che esce tra gli applausi del pubblico di casa. Così i biancorossi giocano il recupero in 10 visto che hanno esaurito i cambi. Al cinquantesimo ultimo sussulto ospite con Pigini che ci prova di testa. La deviazione però va ampiamente a lato. La partita termina così con Lavastese mai in pericolo davvero nei 90 minuti di gara. All'Aragona finisce 2-0 per i padroni di casa in una partita ben gestita dai ragazzi di Colavitto che portano a casa 3 punti preziosi. I biancorossi con questa vittoria volano a quota 27 in classifica, secondi in solitaria. Per i marchigiani prestazione inconsistente quest'oggi. Prova di maturità della Vastese qui all'Aragona. Vincete senza soffrire. Sì, sì, sì. La partita si è incanalata nel verso giusto. Sono contento. 3 punti a casa. Ci avviciniamo a quello che era l'obiettivo inizio campionato. Quindi oggi i ragazzi hanno lottato dal primo al 95esimo. Peccato per l'infortunio a Umberto. È avuto una distorsione alla caviglia. Saranno i medici in settimana a vedere un attimo l'entità. Dico sempre che devo fare le mie scelte tecniche. Cioè io devo arrivare alla domenica con tutti gli effettivi a disposizione. Poi mi assumo le mie responsabilità quando sono chiamato a fare la formazione per la domenica. Quindi mi dispiace non averlo. Ma è ancora presto per parlare. Quindi dobbiamo valutare bene in settimana che cosa è successo. Mister De Angelis, siete venuti qui a giocare una partita sulla difensiva contro la Vastese ma non è bastato. Sì ma è normale. La Vastese ha un budget dei giocatori nettamente superiore a Castelfitardo. C'era da difendersi, farlo in maniera ordinata e ripartire. Tanto d'altronde quando giochi con squadra che hanno un budget del doppio, il triplo e il tre non ne puoi permetterti di andare a frontale a viso aperto. Anche perché la qualità dei giocatori individuali e l'organico della Vastese è nettamente più forte quella che è Castelfitardo. Però la Vastese ha segnato su due calci pezzati praticamente, su un rigore che secondo me lo danno solo a Vasto, non a Castelfitardo. E sul primo gol è una disattenzione nostra, abbastanza evidente credo. E' mancata solo un po' di convinzione forse? La convinzione l'abbiamo avuta, il secondo tempo la Vastese praticamente ha quasi mai più tirato in porta. Solo dei grandi lanci lunghi per un gran giocatore come Prisco che faceva diventare giocabili tutte le palli. Il secondo tempo praticamente eravamo nel campo della Vastese ma se siamo il secondo peggior attacco del campionato evidentemente qualche problema l'abbiamo. Non è che possiamo prenderci in giro, però non è a Vasto che Castelfitardo può prendere i punti per la salvezza. Le partite alla portata del Castelfitardo sono altre secondo me.